Io oggi sento il dovere come cittadino, come uomo che vive intensamente la vita sociale di questa città, ma anche come politico di questa città, di lanciare un appello, un appello a favore degli amici dell'associazione I Nostri Due Angeli. Questa associazione non è più questa automedica che ha rappresentato per questa città un momento importante in cui tanti cittadini ne hanno usufruito, ne ha usufruito la cittadinanza, i cittadini più bisognosi, chi vive a margine della società, ma ne ha usufruito anche il comune di Favara, nell'organizzazione delle sue tante attività. Io mi sento di lanciare un appello, lo voglio fare facendo leva sulla sensibilità dell'amico del signor Sintaco Sassaman Canella, del Presidente del Consiglio Comunale Leonardo Petruzzella, che ieri sera ho avuto modo di incontrare e di scampiare delle opinioni in merito, il quale mi ha riferito tutto il suo appoggio affinché questi ragazzi, affinché Nadia Mattina e Antonio Nobele, che sono i responsabili dell'associazione I Nostri Due Angeli, possano riavere con l'aiuto del Comune questa automedica. Così come rivolgo un appello importante a tutta la classe politica, ai consiglieri comunali, ai consiglieri provinciali, alla Chiesa, che è sempre stata vicina nei momenti importanti alla collettività favarese e alla pastorale della città di Favara, ma a tutti coloro i quali, liberi cittadini, ritengono di dover dare un loro contributo, piccolo o grande che sia, ma credo doveroso in questa circostanza. Sono sicuro che questo appello non passerà inosservato, conoscendo il buon cuore e la disponibilità della città di Favara. Per chi volesse aiutare l'associazione a contribuire all'acquisto di una nuova auto, a chi si deve rivolgere? Sì, ecco, questo è importantissimo poterlo dire perché bisogna contattare direttamente, per chi lo volesse, e nella misura in cui lo vuole, contattare direttamente gli interessati, quindi Nadia Mattina o Antonio Nobele, o anche, visto la disponibilità che avete dato come emittente, direttamente Sicilia TV, che farà da tramite in questa circostanza.